La Russia non sembra essere risparmiata dai progetti del Forum Economico Mondiale, World Economy Forum. Nel paese ci sarà una settimana di pausa lavorativa forzata, così il Cremlino proverà a rallentare i contagi da Covid. Sempre secondo i dati ufficiali la situazione sarebbe drammatica per numero di malati e morti. La pausa dal lavoro inizierà il 30 ottobre e dal 7 novembre potrà lavorare solo chi ha tampone molecolare negativo, chi è guarito recentemente o chi è vaccinato, a mo' di Green Pass italiano senza l'opzione test rapido. Vi invito a sostenere il canale, come sempre iscrizione, mi piace e condivisione. Ogni mattina all'alba inizia la sanificazione dei grandi snodi di Mosca, dove passano milioni di cittadini quotidianamente. La politica sembra dare credito ai dati ufficiali che dimostrerebbero una situazione difficile. Su 88 regioni russe, 79 osserverebbero aumenti dei contagi di giorno in giorno. 255 mila ospedalizzati totali. Gli enti sanitari hanno avvertito e convinto il governo a introdurre misure restrittive della libertà immediatamente. Potrebbero terminare i posti disponibili nelle terapie intensive. Mercoledì il presidente Vladimir Putin ha annunciato il piano pandemico. Dal 30 ottobre al 7 novembre pausa forzata dal lavoro a livello nazionale. Nelle regioni messe peggio si fermerà tutto già dal 23 ottobre. Il governo consiglia ai datori di lavoro di mettere in telelavoro o smart working gli over 60 non vaccinati almeno per quattro settimane. Giusto il tempo di fare le dosi cosiddette volontarie. Il vice del primo ministro ha garantito due giorni di ferie per i più giovani che si sono vaccinati. Con la riapertura del 7 novembre si potrà lavorare solo con codice QR della vaccinazione, tampone molecolare PCR test e attestato di guarigione recente. Lo dico un'altra volta. Il vaccino diminuisce veramente la gravità dei sintomi della malattia, i possibili pericoli per la salute, il rischio di morte. Per questo sostengo le misure del governo. Invito ogni cittadino a vaccinarsi. Queste sono le parole di Putin pronunciate in un messaggio televisivo alla nazione. In Russia il 45% della popolazione ha ricevuto la prima dose. Circa 34.000 casi e 1.000 morti al giorno registrate ufficialmente. Il sindaco di Mosca Sergei Semenovic Sobianin, tra i fondatori del Partito Russia Unita di Putin e fedelissimo di quest'ultimo, ha annunciato tra le altre cose un lockdown a casa forzato per gli ultra sessantenni non vaccinati dalla durata di ben quattro mesi. Sembra esserci un filo rosso che lega moltissimi paesi nella gestione del Covid. Una sorta di grande governo che unisce esecutivi distantissimi nel grande teatro della politica. Si stanno gradualmente imponendo enormi cambiamenti alle nostre vite e spaccando in due interi popoli. Viva l'Italia e i ammodiororsag!